buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di giovedì 9 anzi 10 di settembre buongiorno ben ritrovati siamo in diretta sono le 7 questa è fano tv canale 17 del digitale terrestre allora subito il santo del giorno perché oggi è un santo di casa nostra san nicola da tolentino a tolentino nelle marche san nicola sacerdote dell'ordine degli eremiti di sant'agostino che dedito a una severa astinenza assiduo nella preghiera fu severo con se stesso ma clemente con gli altri e spesso imponeva a sé le penitenze altrui l'alba questa mattina è spuntata alle 6 e 45 il sole tramonterà alle 19 e 31 andiamo a dare uno sguardo anche al tempo oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con precipitazioni brevi locali rovesci pomeridiani soprattutto in montagna ma limitatamente al sud della nostra regione per la giornata di domani venerdì 11 settembre ancora cielo perturbato con occasionali rovescio brevi temporali pomeridiani sui settori interni della regione mentre sabato avremo un cielo sereno su quasi tutta la regione con temperature senza variazioni di rilievo e tempo sereno anche per il fine settimana dunque vediamo le previsioni per oggi per quanto riguarda le temperature che sono comunque ancora molto molto alte estive avremo anche oggi sopra i 30 gradi su tutta la costa e dunque giornata tipicamente agostana potremmo dire estiva così come credo ci confermerà il nostro tommy con il quale adesso ci andiamo a collegare buongiorno ancora stai mascherando il fiatone ma ti ho beccato questa volta stamattina sei arrivato all'ultimo hai fatto la passerella lì la passeggiata tutta di corsa buongiorno assolutamente vero marco ecco vedo che insomma settembre si fa sentire anche per i bagnini che sono arrivati dunque in coda in fondo alla stagione immagino una stagione particolare che ricorderete come tutti d'altronde ma insomma c'è il vostro bel da fare sì marco adesso abbiamo già iniziato a sistemare un po d'attrezzatura piccolissime dosi per non fare le cose in maniera troppo veloce però stiamo iniziando dai finalmente a montare qualcosina la stagione ormai dai possiamo dire che che è quasi finita ufficialmente quando finirà ve lo forse te l'ho già chiesto allora il salvataggio il servizio di salvataggio terminerà a pano a domenica ah beh quindi adesso diciamo quello esatto da lunedì che succede però scusami da lunedì che succede allora da lunedì comunque sia finché lo stabilimento rimarrà aperto quindi fino a verso la fine del mese un bagno salvataggio deve obbligatoriamente militare all'interno dello stabilimento balneare però non ha più l'obbligo di di torretta e chiaramente sul pennone deve esserci obbligatoriamente bandiera rossa anche in caso di condizioni metto maniere favorevoli perché non c'è il servizio insomma e tu quando terminerai perché poi i collegamenti perché possono andare avanti tutto l'inverno quando è che finiamo il collegamento col bagnino dimmi tu quando che questo me lo dovrai dire tu quando è che finisci il tuo servizio quando lo finisci allora il servizio lo termino domenica potrebbe essere domenica l'ultima presente in spiaggia tutto il mese sabato potrebbe essere l'ultimo collegamento vediamo probabilmente va bene porta la bottiglia dello spumante sabato mattina che la stappiamo in diretta grazie Tommy buona giornata allora c'è anche qualcun altro che termina il lavoro che è durato cinque anni un lavoro intenso perché ha dovuto affrontare terremoti ha dovuto affrontare la pandemia e ha avuto un sacco di responsabilità sulle sue spalle immaginiamo anche molte notti insonne stiamo parlando del governatore uscente ceriscioli che torna dice lui in cattedra torna a fare il professore di matematica insegnerà al bramante bramante genga e lo farà da martedì 22 anche perché dice lui come vedremo tra un istante prima voglio contare i voti sapete che si vota anche lunedì e poi ci sarà subito lo spoglio che quindi dice voglio prima contare i voti poi tornerò ad insegnare questa come vedete la prima pagina del carlino di pesaro fotos è di lei nel sito per scambisti un fanese che finisce sotto processo per gli scatti a luci rosse della fidanzata diffusi su internet a dire il vero questo è una notizia che già anche il giornale i giornali hanno trattato perché è una notizia che riguarda insomma cinque anni cinque anni fa che è nata nel 2015 e ogni volta che passa per il tribunale nelle varie fasi poi fa un passaggio anche sui giornali ma come vedremo già qualcuno se la ricorderà galleria roma pesaro la fuga il comune non fa i lavori promessi parliamo di commercio dunque mentre 5 mila candidati per 52 posti sono posti per operatori sociosanitari sempre sulla prima del carlino di oggi gli studenti sfilano per i test sierologici alla nuova scuola il pesarese giuliani invece fotografo premiato a parigi per gli scatti sugli eroi agli eroi anti covid verso le elezioni mangialardi sfida salvini si confronti con me e poi il decreto della regione che prevede più spettatori nei palasport ma per eventi eccezionali di taglio basso ovuli di coca scacco al clan nigeriano nel gruppo di indagati e arrestati c'erano clandestini e richiedenti asilo poi furti con i ladri che rubano 6.000 euro nascosti in casa un colpo nella zona di piazzale primo maggio nel mirino anche il quartiere del porto la prima del corriere adriatico invece bus garantiti per gli studenti l'azienda di trasporti ami adriabus potenzierà le corsi con 15 mezzi in più e con pullman gemelli simulazioni in questi giorni di percorsi per le tratte dell'interland da rafforzare e per l'orario di ingresso a scuola scaglionato e restando a scuola che un po come vedete il l'argomento più importante sul quale ci sono ancora molte incognite oggi anche i giornali dedicano molte molte pagine molto spazio e compresa la fotonotizia del corriere che dice banchi immobili e niente prestiti cioè i banchi saranno non si potranno spostare ma soprattutto quello che un tempo era scusa mi passi una penna mi presti una penna mi presti un libro mi presti e questo non potrà più esistere poi chiaramente sulla carta di fatto immagino che tra giovani continuerà più o meno a essere come sempre fatta chiaramente bisognerà poi fare attenzione soprattutto per le penne perché sono abitualmente finiscono in bocca e poi magari anche sopra pensiero le sue foto sexy in un sito di scambi denunciato l'ex a pesero il liquidatore parla di un imprenditore interessato per la berloni e sempre da pesero la tosap resterà gratuita per i negozianti sotto sanitari guerrieri le foto di giuliani premiate a parigi e poi la buona notizia per gli sportivi ceriscioli apre più pubblico nei palasport aumenta dunque la capienza allora ceriscioli andiamo a vedere le pagine interne questa è la pagina del resto del carlino che ha intervistato il presidente uscente dice sono pronto a tornare in cattedra insegnerò al bramante genga ha chiesto e ottenuto l'avvicinamento l'avvicinamento dall'istituto tecnico di urbino dove insegnava prima il 22 dice lui prendo servizio ma prima voglio contare i voti prende a pugni prende a pugni il bancomat è stato denunciato notte fuori dal comune per un 26enne che ha ricoperto di sangue il dispositivo nel cuore della notte a canavaccio di urbino poi non contento non pago il 26enne ha divelto anche una pattumiera presente nelle vicinanze è stato fermato ed è ferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato e ingenti sono come vedete i danni andiamo invece sempre sulla stessa pagina del carlino però più sotto perché e alleggeriamo subito un po il carico parliamo del club dei brutti che ha sede a piobbico ormai lo sappiamo tutti quanti ha rinunciato alla sua festa ma il presidente pensa già a come rimediare gianna luigi è stato prorogato nella sua carica fino al 2021 ma domenica scorsa non ha resistito e dunque ha sfilato per il paese per piobbico accanto ad una miss come vuole la tradizione però è interessante la storia di questo club dei brutti che vi leggo grazie a questo articolo scritto da amedeo pisciolini allora la storia del club dei brutti trova origine nel lontano 1879 quando alcuni notabili del paese di piobbico il sindaco il sacerdote il notaio preso atto dell'elevato numero di nubili ovvero delle zitelle e le cui appartenenze potevano essere giudicate non particolarmente attraenti pensarono a un riferimento cioè a una persona che fosse da loro riconosciuta come mediatore e che in qualche modo servisse per farle incontrare e maritare e così nacque il presidente del club dei brutti una figura che continuò poi nel tempo anche con funzioni diverse e più gogliardiche ricordiamo tutti ovviamente tra i vari presidenti telesforo jacobelli detto lele il club oggi conta circa pensate 33 mila iscritti quindi roba da fare invidia alle più grosse organizzazioni sindacali mette le foto hot nel 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 sito in un sito per per scambisti è finito a processo lei scopre tutto per caso e poi lo denuncia lui ha 56 anni la donna fanese 25 aveva accettato di farsi fotografare come gioco di coppia lei si è costituita parte civile ha chiesto 120 mila euro di risarcimento è un fatto che come già detto risale al 2015 è una storia di cui vi abbiamo già parlato qualche mese fa o qualche anno fa insomma il particolare che ricordo era che tutti e due sono amanti delle motociclette quindi da lì poi è nato anche il loro tettatette quindi poi sono finiti praticamente sotto le lenzuola 6 mila euro nascosti in casa poi rubati questo è avvenuto è caduto a pesero un colpo che è stato messo a segno nella zona di piazzale primo maggio i ladri sono saliti al secondo piano passando dietro allo stabile arrampicandosi su un muretto pensilina e poi sul terrazzo qui hanno forzato una finestra e poi si sono entrati nell'appartamento al cui interno dentro non c'era nessuno e quindi hanno potuto rubare praticamente indisturbati sulla questione della della berloni ci sono anche qui buone notizie c'è un imprenditore pronto a rilanciare il marchio lo storico marchio pesarese della berloni appunto per il liquidatore meloncelli i tempi sono maturi si stringe su un'offerta locale legata al manifatturiero tra l'altro intanto è stato venduto il capannone alla tecnoplast una ditta locale si parla di 5 milioni di euro questo ha portato nuova liquidità in cassa con cui dice il liquidatore abbiamo pagato tutte le spettanze ai lavoratori c'è chi è pronto a comprare asset magazzino e contratti commerciali e c'è chi invece vorrebbe entrare come investitore la quadratura del cerchio però arriverà molto velocemente perché tutti sono consapevoli che più passa il tempo ovviamente e più il tutto si svaluta il capannone dovrà essere comunque sgomberato entro il prossimo primo novembre ma questo dice il liquidatore non è un problema niente overbooking grazie a 15 bus in più e alle corse gemelle quindi l'altra incognita per l'inizio della scuola come abbiamo visto in questi giorni è il trasporto degli studenti da casa a scuola e viceversa predisposto il piano di trasporto scolastico dalla società adriabus ami il direttore benetti benedetti scusate dice si terrà conto degli orari d'ingresso che necessariamente saranno scaglionati questo appunto anche per evitare assembramenti il corriere adriatico che stamattina insomma fa un po il punto anche con i numeri di tutte le persone tutti gli studenti che sono interessati da questi trasferimenti che in qualche modo si generano un po di preoccupazione ma anche con questi test con queste simulazioni che vengono fatti in questi giorni man mano che si 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 va avanti insomma queste preoccupazioni diminuiscono pare che insomma stia andando tutto per il meglio per capire le necessità appunto ci sono sono state fatte prove simulate sui tratti di percorrenza un secondo mezzo pronto se in caso di eccedenza si salterà una fermata cioè se in una fermata ci sono persone troppe persone a bordo già il pullman è pieno c'è un secondo mezzo subito pronto che va a soccorrere il primo quindi a far salire quelli che resterebbero a piedi sulla pagina di fano invece del resto del carino anche oggi si parla della vasca dell'arzilla che sarà chiusa entro l'anno aset accelera dopo i timori dei residenti e traccia il cronoprogramma dei lavori l'ingegnere lucertini dice nessun problema per le abitazioni circostanti una in particolare la vedete che tra l'altro è in ristrutturazione un investimento di un milione e duecento mila euro capienza di mille 200 metri cubi d'acqua qui a fianco passa per chi non lo sapesse chi non è della zona passa il torrente arzilla un piccolo torrente che però quando si arrabbia diventa un torrente che mette paura e preoccupa quando si arrabbia nel senso che quando c'è tanta acqua che scende dopo le piogge allora questa invece la politica con la strategia di mister preferenze chi è mister preferenze è luca serfilippi che in questa fotografia vedete al pincio di fano quindi nel cuore della città insieme a luca paolini riccardo augusto marchetti e francesco acquaroli ha presentato la sua candidatura perché c'è il pulmino perché ha fatto una scelta di non avere una sede elettorale ma di avere un pulmino appunto che faccia che fungesse in qualche modo da sede quindi una sede mobile tra l'altro perché mister preferenze perché alle elezioni comunali di fano fu il più votato e quindi anna marchetti in particolare lo ha la collega preferito in questi mesi continuare a chiamarlo mister preferenze mancini assegnati siamo allo stadio di fano assegnati i lavori ora serve sprint risanamento conservativo affidato al consorzio artigiani romagnolo ma i tempi stringono domenica 27 infatti è previsto l'inizio del campionato tra le ditte del gruppo c'è anche la gm costruzione di bellocchi di fano potrebbe dunque fare l'intervento chiaramente per i tifosi che vorranno seguire la squadra ci sono un po' di modifiche ma insomma ormai sono abituati perché lo stadio negli ultimi anni è un po' oggetto di lavori e quindi di modifiche soprattutto per gli spalti le tribune e quant'altro andiamo sul sempre qui su questa pagina però sotto variante quei 20 milioni dovevano servire per arrivare a pesero non a gimarra non molla il comitato e continua a raccogliere firme contro contro l'opera quell'opera quella strada viaria quella strada che dovrebbe passare tra le colline di gimarra per sfociare poi sbucare sulla statale 16 adriatica l'arena bcc invece sempre restando a fano sulla vetta degli 8.000 l'usinghiero il bilancio della prima estate del covid per la cooperativa tre ponti il prossimo anno portiamo la ricciarelli dicono gli organizzatori mentre il gemellaggio fano e putignano cioè due un binomio nel segno del carnevale con i due insomma il carnevale forse tra i più importanti più noti in italia fano e putignano dunque si incontrano per dialogare e diventare ancora più forti il corredo adriatico sempre da fano scuola fatti 980 test sierologici trovato solo un falso positivo risultato ribaltato dal tampone controlli della federazione dei medici di medicina generale dunque possiamo dire che questi test insomma hanno dato soltanto un falso positivo che però poi è stato ribaltato dal tampone e quindi questo per dire quanto ancora c'è da quanto c'è quanti controlli ci sono prima di iniziare la scuola quanti controlli stanno facendo quanti se ne faranno ancora anche qui sempre tra la gente per sconfiggere l'antipolitica luca serfilippi si candida alle regionali andiamo sull'altra pagina bianchello identichita al brodetto fest giardini il sommelier irridato vino dal futuro rosio parlando del bianchello le degustazioni accompagnate dalla doc tipica del fanese aset un laboratorio gioiello titola sul pagina della van metauro il corriere esito positivo per le verifiche degli ispettori di accredia l'ente unico nazionale di accreditamento il presidente di aset reginelli dice nessuna debolezza ma diversi punti di forza ampliamento dell'area e competenza tecnica poi ancora dalla val cesano scuola arriva un tesoretto per metterla in sicurezza il sindaco di san lorenzo in campo dallonti annuncia un finanziamento di un milione e 650 mila euro ucchielli non ferma invece la fiera di san michele confermata dunque a talacchio si terrà nei due fine settimana a cavallo di settembre ottobre area ampia e misure di sicurezza poi ancora la cronaca da urbino urbino apre con i pugni e tronchesi sul bancomat sotto foschi nuovo caso covid troppi ritardi da pesero andremo ecco a vedere adesso sulla prima del carlino questa è la notizia che arriva dalla città ducale i positivi al covid vadano subito a pesero lo dice e lo chiede l'assessore comunale alla sanità elisabetta foschi che solleva la vicenda allora che cosa solleva elisabetta foschi vediamolo insieme nella giornata di lunedì dice la foschi in una nota diffusa ieri mattina è arrivato al pronto soccorso un paziente con la febbre ha seguito correttamente il percorso sporco ed è stato prontamente ricoverato in area contumaciale visto il torace sospetto eseguito immediatamente il tampone risultato positivo nella mattinata di martedì è stato subito richiesto il trasferimento a pesero quindi per non tenerlo all'ospedale di urbino ma di fatto marche nord quindi pesero ha dato l'ok soltanto in serata quindi sono state sono passate ore e ore dal mattino alla sera in cui questo paziente sì è vero che ha fatto il percorso sporco però insomma è rimasto lì in ospedale sarà stato in isolamento sarà stato tutto quello che volete era uno soltanto per cui magari la situazione non era così poi difficile però possiamo immaginare che se è successo questo soltanto con uno figuriamoci se magari i positivi che si presentano al pronto soccorso di urbino fossero più di uno la cosa diventerebbe un po più ingestibile e quindi la l'assessore foschi chiede proprio questo che i covid i positivi al covid vadano subito a pesero tra quelli che ovviamente si presenteranno a urbino nella pagina di pesero del coreo adriatico si parla di viabilità viale trieste pedonale solo la sera ma le auto non si parcheggeranno conclusa la sperimentazione estiva l'assessore belloni ha annunciato un cambio di formula l'amministrazione acquisterà l'area di sosta invece di villa marina e poi il comune mano tesa al commercio tosap gratuita e spazio ai dehors cioè a quelle strutture che vengono messe a quei gazebo che vengono messi tavolini che vengono messi fuori dai locali l'assessore franquellucci dice in modo autonomo abbiamo deciso di prorogare l'ordinanza anche per l'inverno a senigallia guati di notte sulle auto in sosta due teppisti inguaiati dai passanti danneggiamenti sul lungomare ad ieri giovani senigalliesi rintracciati denunciati dai carabinieri presi a calci gli specchietti ritrovisori di una di una macchina insomma anche qui la noia che fa brutti scherzi ster paglia in fiamme la scintilla da un treno in corsa l'incendio a marine scoppiato martedì sera tra la ferrovia e la statale vacanze vip sulla spiaggia di velluto sempre senigallia c'è il premio oscar per spider man l'attore regista e produttore entoni la molinara a pranzo in un ristorante del posto con il fotografo simone pegoli poi la bicicletta parcheggiata sotto ai contatori delle sopra scusate i contatori dell'elettricità si vede che non c'era spazio l'hanno parcheggiata guardate come l'hanno parcheggiata insomma in modo un po' così mentre le ultime pagine prima dello sport ecco qua i volti che vi abbiamo fatto vedere anche ieri nel telegiornale delle 20 e 30 i volti senza maschera arrivano a parigi giuliani eletto fotografo dell'anno 2020 il premio sarà ritirato a dicembre riceverò 5 mila dollari dice lui destinate ad una organizzazione umanitaria forse pesarese e questi sono alcuni dei volti pesaresi fotografati da giuliani poi ripresi dai principali magazine internazionali ed è queste sono le fotografie andiamo sulle pagine di sport allora intanto la notizia buona che ceriscioli allarga le porte dei palazzetti dei parasport la capienza fino al 25 per cento nuovo decreto della regione che rivede il provvedimento del 13 agosto vale per gli eventi eccezionali indoor cioè al chiuso sollievo per la supercoppa dunque di volley che si disputerà a civita nuova marche vi spesero in attesa dei gironi e delle date certe domani c'è la spalla ancora tanti dubbi su un campionato il cui inizio potrebbe slittare sabato sera la presentazione a rocca costanza però per sole 400 persone l'asso calciatori ha protestato contro la riduzione delle rose a 22 elementi sul fronte invece dell'alma fanno ascoli la sfida vera è prima alle 18 un amichevole sigillata per tutti l'attesa maggiore per il summit tra le due dirigenze ecco perché la vera sfida è prima cioè prima della discesa in campo dei giocatori perché prima c'è questo incontro tra i dirigenti della samba del fanno anche perché il fanno ha bisogno di rinforzi conta di proseguire il rapporto di collaborazione con con l'ascoli e sul versante bianconero però ci sono a quanto pare dei dei dubbi in eccellenza lucarini questione di giorni poi verrà ufficializzato il nuovo nome lmv urbino intanto i feltreschi si rafforzano in attacco con il veterano docente credo che sia l'ultima pagina sì e allora con questa pagina di sport ci salutiamo qui grazie per aver seguito anche questa mattina siete in tantissimi questo ci fa davvero molto piacere la rassegna stampa rassegna che torna domani mattina alle 7 puntuali mentre questa sera le 20 e 30 vi racconteremo che cosa sarà successo da qui in avanti nella nostra città nella nostra provincia in questa bellissima regione che si chiama marche grazie buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti